Qui al circuito Mifaf di Bustarsizio, siamo con Giuseppe Allegri, lui è proprietario di cavalli. Sì, qui ho due puledri, una a 6 e un a 4 anni, tutti e due, anzi due femmine, una a 6 e una a 4 anni. Fa l'oma nei 6, che stamattina ha fatto un bellissimo 0 e a l'oma adesso che ha fatto 0 nei 4. Montate tutte e due da Matteo Riva, sono molto soddisfatto, oggi è una bella giornata. Lei ha altri cavalli però che fa montare a grandi cavalieri? Sì, sono anche proprietario di Elliot, che sta montando Filippo Moyerson in questo momento in CSI qui a Gorla, che è un po' il cavallo che ci ha fatto come famiglia innamorare di questo mondo e di questo ambiente. Poi dopo mi è rimasta la passione e cerco di svilupparla nel mercato dei giovani cavalli, soprattutto italiani. anzi, esclusivamente italiani. C'è qualche linea di sangue che segue particolarmente? In questo momento ho cavalli di questa linea di sangue di una figlia di Kidam de Revelle, che è a Loma, e soprattutto però non ho linee specifiche, ma non essendo uno specializzato nell'allevamento, preferisco affidarmi a un allevatore di cui ho una stima immensa, che è Sergio Melotto di Legnago, vicino a Verona. Ho sempre ascoltato i suoi consigli e si sono sempre rivelati molto azzeccati. Cosa può fare una federazione per darvi una mano? È una bella domanda, non è semplice. Beh, sarebbe banale dire aiutarci un po' con i costi. Essere proprietario di Giovani Cavalli non è semplice, implica dei costi e degli investimenti abbastanza sostanziosi. E spesso, come si vede anche dalle vincite, non sono molto remunerati. Credo che sarebbe importante soprattutto ridurre i costi di queste prove. Ecco, quindi, ove possibile, ecco, perché ripeto, poi il proprietario ha anche altri costi, il trasporto, il cavallier, insomma, ci sono tutta una serie di cose. Ecco, quindi riuscire magari a ridurre i costi sui cavalli italiani credo che sarebbe molto importante. Grazie mille, grazie a lei, grazie a tutti i proprietari di cavalli italiani. Abbiamo bisogno, grazie a voi. Grazie a tutti i proprietari.